Libero subito in vendita a Cameri Arte Casa propone questo appartamento molto luminoso di 100 metri quadri in palazzina di soli due piani. Troviamo ingresso, soggiorno, cucina molto ampia, due camere matrimoniali e un grande bagno finestrato riammodernato di recente con gress e sanitari sospesi, doppio lavello e doccia. I serramenti sono in legno con vetrocamera, zanzariere, riscaldamento autonomo e impianto di climatizzazione. E ancora, due balconi coperti, oltre a una grande autorimessa raggiungibile con ascensore, che può comodamente ospitare i tuoi automobili oltre a motociclette. Al suo interno carico-scarico acqua per la lavanderia, ideale anche per i tuoi hobby. Contatta Arte Casa Immobiliare per tutte le informazioni. Arte Casa. L'arte di vendere case.